In questa puntata di Unicam News, progetto sorprendo, un progetto di collaborazione tra Unicam e l'Università della Romania. Seminario sulle azioni Marie Curie, consegnati anche i SAS Award. Unicam e le organizzazioni sindacali insieme per la consulta per il lavoro e la valorizzazione della persona. Studenti Unicam diventano sviluppatori Google. Bentrovati a questa nuova puntata di Unicam News. Questi titoli li abbiamo sentiti, ma vediamo subito il primo servizio. Si è tenuto nei giorni scorsi in Ateneo il meeting tra i partner di un importante progetto internazionale che vede come capofila l'Università di Camerino e la Danubius University della Romania. Un progetto che ha come obiettivo principale la condivisione del software denominato Sorprendo. Un software dedicato alle attività di orientamento che Unicam, primo Ateneo in Italia, ha già sperimentato con successo. L'Università di Camerino è stata la prima Università d'Italia a sperimentare Sorprendo, questo software di cui avete sentito parlare. In più noi siamo praticamente adesso in questo progetto perché vogliamo portare la nostra esperienza a servizio di un'altra nazione che è quella rumena. E non solo perché anche la Regione Marche adesso adotterà questo software molto importante in tutta la Regione e quindi siamo sicuri che grazie alla nostra esperienza potremo essere di aiuto e questo potrà anche rientrare in quello che è il grande progetto di garanzia giovani. Il progetto vede coinvolti dieci partner, sei dalla Romania e quattro da altre nazioni quali Spagna, Regno Unito e Italia. Abbiamo avuto un'ottima collaborazione con l'Università di Camerino dal momento che siamo stati partner anche per un altro precedente progetto. Siamo dunque molto felici di poter continuare questa collaborazione. Siamo felici di essere qui oggi. Angelo D'Agostino dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea ne ha illustrato la struttura e le regole di partecipazione e progettazione. Al termine dell'incontro si è tenuta la consegna dei SAS Award 2013, il premio che la School of Advanced Studies di Unica mi ha istituito da qualche anno per conferire un riconoscimento ai tre migliori prodotti scientifici dei dottorandi. Per questa edizione il premio è andato a Matteo Mozziccafreddo, Nicola Paoletti e Alessandro Bonifazio. Proseguono le iniziative che l'Università di Camerino sta mettendo in campo per lo sviluppo del territorio. È stato siglato infatti nei giorni scorsi il protocollo d'intesa tra l'Università di Camerino e le organizzazioni sindacali CGL e CISLEWILL che sancisce ufficialmente la costituzione della consulta per il lavoro e la valorizzazione della persona. Nel corso dei prossimi giorni il protocollo sarà sottoscritto anche dallo SNALS. Si tratta di un tavolo di lavoro fortemente evoluto da Unicam per promuovere la collaborazione tra l'Ateneo e sindacati che si impegnano a coordinare progetti e iniziative e a mettere a fattor comune professionalità e impegno a fine di favorire lo sviluppo culturale, sociale e economico del territorio. La strategia è chiara, essere capillarmente sul territorio, sui nostri sistemi produttivi valorizzando insieme agli stakeholder principali del territorio, quelli che ho menzionato valorizzando le nostre conoscenze, competenze e tecnologia e valorizzando il nostro capitale umano il cosiddetto capitale umano, i ragazzi che noi formiamo, che laureamo, che educhiamo e che poi immediatamente devono essere trasferiti sul sistema produttivo. Parte da Camerino il primo gruppo di sviluppatori Google riconosciuto ufficialmente da Google Italia. Tutto nasce dall'intraprendenza, dall'entusiasmo di un gruppo di giovani studenti di informatica Unicam. Abbiamo incontrato uno di loro, Marco Mancini. Google Developers Group, quindi un gruppo formato da ragazzi che sono appassionati dal mondo Google e vogliono approfondire appunto le tematiche del mondo Android, del mondo Google Chrome, Google Maps e tutto, diciamo, l'ambiente Google. È appunto un gruppo formato da studenti Unicam, anche da gente al di fuori di Unicam che tutti possono partecipare e l'impegno appunto è di portare avanti questo gruppo attivamente perché siamo tutti comunque appassionati Google e l'idea è buona e vogliamo portarla avanti. È un primo evento ad aprile, tre giornate secondo me molto belle. Corso programmazione Android e l'utilizzo di un server per la parte amministrazione. Queste tre giornate sono gratuite, l'iscrizione è aperta a tutti, vi invitiamo a partecipare e anche per conoscere Unicam. E con questo è tutto, noi vi diamo appuntamento il prossimo mercoledì, sempre alla stessa ora e vi ricordiamo che tutte le informazioni sull'Università di Camerino sono disponibili sul nostro sito www.unicam.it. A tutti voi grazie per essere stati con noi.